Certamente il problema è grande, lo sappiamo, alcuni provvedimenti non aiutano particolarmente, ma come vede Caritas Italiana la questione della migrazione in questo momento e soprattutto dei corridoi umanitari che non si stanca di richiamare come possibilità? I corridoi umanitari sono un po' la cartina di tornasole per Caritas Italiana e la Chiesa Italiana, una misura in cui in questo clima, non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, mi sento dire anche oltrooceano avvelenato sul tema delle migrazioni, dare dei segni di speranza è per noi importante e anche strategico perché attraverso i corridoi umanitari non solo diamo una risposta alle migrazioni legali e sicure che sono quelle che poi chiedono spesso ai governanti, portando persone con gli aerei, evitando quindi i barconi, le morti in mare, ma riattiviamo le comunità, questo è un po' l'aspetto qualificante di questa esperienza perché le comunità cristiane devono incontrare queste persone che arrivano da lontano, conoscere le loro storie e attivarsi per la loro accoglienza perché l'accoglienza è un tema di responsabilità condivisa, non è la responsabilità di qualcuno o di qualcun altro, di tutti noi, quindi il corridoio umanitario dà questa opportunità. Quali sono le cifre particolarmente significative di questo primo rapporto che viene presentato? Io credo che quella più significativa sia il basso tasso di allontanamenti dalle nostre accoglienze, delle persone che arrivano con i corridoi umanitari, per intenderci, chi arriva con i barconi spesso, soprattutto se di nazionalità d'Italia, si allontana dall'Italia in poco tempo, spesso qualche giorno o qualche settimana. Le persone che noi abbiamo portato decidono di fermarsi perché trovano delle comunità accoglienti, quindi abbiamo un tasso che non supera il 4-5% di allontanamenti dalle nostre accoglienze e questo penso sia il risultato che vale la pena sottolineare più di altri.